C'è solo un mantra che ripetono la polizia postale, le associazioni contro il cyberbullismo e gli psicologi, ed è parlare. Parlare sempre se si finisce vittima dei bulli, parlare anche se si è diventati bulli un po' inconsapevolmente, magari postando una foto senza rendersene conto delle conseguenze. Perché si può tornare indietro. La nuova emergenza è infatti l'età che porta con sé anche molta inconsapevolezza. Autori e vittime di cyberbullismo sono oramai spesso poco più che bambini. Il covid, con la scuola in collegamento da casa, ha abbassato drasticamente l'età in cui per la prima volta si prende mano un tablet e i social, così come le chat di gruppo per divertirsi, sono diventati l'unico modo per frequentarsi. Per questo, secondo i psicologi, gli adulti ormai non possono starne fuori, anche se per ragioni anagrafiche non amano i social, devono capire che sono parte integrante della vita dei figli e conoscerne i meccanismi. E anche loro devono prima di tutto parlare. Far diventare quello che succede in rete è un tema come i tanti altri che si affrontano quotidianamente, con pregi e difetti, pericoli e regole. Non è un caso che la pulizia postale, così come le associazioni che si occupano da anni di aiutare ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, come Telefono Azzurro, Save the Children, Psi Plus, Bulli Stop, oltre a fornire assistenza psicologica e in molti casi anche legali, puntino soprattutto a parlare con i ragazzi, andando nelle scuole, condividendo le testimonianze di chi ci è passato e l'invito a non sentirsi sbagliati se si finisce nelle mani dei bulli. Spesso infatti è proprio la vergogna fermare i ragazzi a farli continuare a subire in silenzio. Per questo anche gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale. Il cyberbullismo, spiega Cristina Bonucchi, psicologa della Polizia di Stato, è un fenomeno che sta riguardando fasce d'età di poco più che bambini. La scuola media è il luogo nel quale più spesso avvengono queste prepotenze in un contesto nel quale sia le vittime, sia gli autori spesso non hanno la consapevolezza né di quanto sia grave quello che stanno facendo, né di avere diritto ad essere messi in sicurezza quando subiscono e l'imbarazzo nel raccontare quello che sta succedendo finisce per farli continuare a subire in silenzio.